Negli ultimi 50 anni la produzione agricola ha avuto un incremento di circa il 30% grazie al contributo diretto degli insetti impollinatori. A scala globale, più del 90% dei principali tipi di colture sono visitati dagli apoidei e circa il 30% dai ditteri, tra cui le mosche, mentre ciascuno degli altri gruppi tassonomici visita meno del 6% delle colture. Alcune specie di api, come l'ape occidentale, apis mellifera, e l'ape orientale del miele, apis cerana, alcuni calabroni, alcune api senza pungiglione, alcune api solitarie, sono allevate, domesticate. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle 20.077 specie di apoidei conosciute al mondo sono selvatiche. Per tali ragioni è stato attivato il biometraggio ambientale attraverso lo studio delle api. Si tratta di un progetto di grande valore scientifico e ambientale che fornirà risultati che saranno particolarmente utili per individuare eventuali criticità. Lo studio prevede più di sei postazioni distribuite sull'intero territorio del parco. Il progetto è coordinato dall'Università degli Studi del Molise in collaborazione con l'Associazione Apicoltori della provincia di Salerno.